Il comune di Castellabate in collaborazione con l'azienda responsabile del servizio di igiene urbana SARIM nell'ambito delle attività di sensibilizzazione e comunicazione ambientale rivolte alla cittadinanza per la promozione del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta, ha previsto un'iniziativa di educazione ambientale per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado cittadine. Da lunedì 11 febbraio infatti partiranno azioni mirate di educazione ambientale al fine di coinvolgere anche le future generazioni ai temi raccolta differenziata e responsabilità sociale. L'obiettivo è coinvolgere in maniera divertente i più piccoli sul tema della salvaguardia dell'ambiente con l'auspicio di far percepire l'importanza di fare la raccolta differenziata all'interno del proprio contesto familiare, favorendo dunque il successo dell'iniziativa in atto. Oltre alla visita di Capitan Eco, eroe buono della raccolta differenziata che effettuerà una serie di incontri di animazione ed educazione ambientale ed intratterrà gli alunni con un intervento che coniuga didattica e divertimento, spiegando loro l'importanza della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti, gli alunni avranno a disposizione del materiale didattico che gli consentirà insieme alle loro insegnanti di approfondire anche in classe queste importanti tematiche. L'assessore all'ambiente Domenico Di Luccia sull'attività informativa in atto prosegue la nuova campagna di sensibilizzazione che oltre agli incontri con la cittadinanza estende il suo raggio d'azione coinvolgendo le scuole con tre incontri nelle primarie e nelle secondarie, un'attività che si concluderà con un ulteriore incontro dedicato a tutte le attività alberghiere per dare ufficialmente inizio il 24 febbraio a questo innovativo sistema di gestione ambientale. L'assessore alla pubblica istruzione Elisabetta Martuscelli commenta così l'iniziativa è fondamentale sensibilizzare quelli che saranno i nostri cittadini del domani per preservare una risorsa che va protetta e custodita e farlo a scuola attraverso attività ludiche e didattiche rende l'iniziativa ancora più efficace.